ciao ti do il benvenuto in questo nuovo video sulle pillole di efficacia fiscale oggi con te voglio condividere un meccanismo fiscale sul quale devi stare un pochettino attento e effettivamente ogni tanto mi capita di dover mostrare durante le mie consulenze appunto faccio varie consulenze con imprenditori che in qualche modo hanno bisogno di un srl o magari ci hanno già e vogliono ottimizzare il carico fiscale e alcune volte mi capita di avere un imprenditore che ha una partita iva come professionista e che magari valuta di aprire un srl ci sono effettivamente tante piccole implicazioni però oggi voglio condividere di questa cosa perché perché tra i rimborsi spese che un imprenditore può prendere con un srl essenzialmente c'è questo famoso rimborso forfettario questo fisso di 46 euro 48 al giorno per ogni giorno di trasferta che è un rimborso sul quale effettivamente noi imprenditori possiamo avere un forte in qualche modo beneficio fiscale ok c'è forte speculazione fiscale sarebbe il termine giusto perché di fatto tu ricevi questi soldi senza pagare imposte e contributi solo per il fatto che tu fai questa trasferta aziendale bene ecco nel momento in cui tu sei però un professionista ok e comunque tu hai una tua srl e sei anche amministratore e vuoi appunto prenderti un compenso d'amministratore ricordati che purtroppo siccome tu hai una partita iva da professionista e svolgi magari un srl con un'attività dentro le srl che appunto è collegata la tua partita iva il tuo compenso d'amministratore non lo puoi prendere con la busta paga ma lo puoi fatturare e anzi ma lo devi solo fatturare e questa cosa per te implica che non puoi avere una busta paga d'amministratore perché il compenso d'amministratore lo puoi prendere solo con una fattura della tua partita iva e questa cosa appunto porta che non puoi prenderti sulla busta paga il rimborso forfettario appunto perché non c'è la busta paga e questa cosa ti fa perdere efficacia fiscale premetto che come professionista tu puoi avere altri altre soluzioni fiscali che possono farti guadagnare soldi chiaro però se mai tu dovessi essere sottolineo professionista ossia non hai la camera di commercio perché magari appunto sei un professionista con un albo di riferimento e vuoi comunque aprire un srl se questa tua srl insomma in sostanza fa la tua stessa attività della partita iva il compenso d'amministratore tu lo puoi prendere solo emettendo una fattura non puoi prenderlo con una busta paga e quindi perdi principalmente il rimborso forfettario tecnicamente perdi anche il rimborso chilometrico volendo dove ne hai diritto però sul rimborso chilometrico magari c'è meno speculazione fiscale dove c'è forte speculazione fiscale è rimborso forfettario però insomma ti posso dire che su questa cosa devi stare attento ogni tanto mi capita è una cosa che voglio far presente appunto agli imprenditori perché se loro vogliono conservare la propria partita iva da professionista e in più avere a fianco un srl che fa la stessa attività della propria partita iva ecco che loro insomma non potendo più prendere una busta paga di amministratore non possono più accedere a questo bonus fiscale e di fatto nell'ambito di una pianificazione fiscale questa cosa deve essere considerata e quindi questo è un punto sul quale metto un po di attenzione insieme ai miei clienti questo è quello che volevo condividere oggi e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata ciao a presto ciao a presto